Allora, ciao bimbi, buongiorno a tutti, ci vediamo per un'altra lezione. Ieri avete letto il mito della giraffa, la costellazione della giraffa? Vi è piaciuto? Siete riusciti a rispondere alle domande? Avete fatto esercizio di lettura, come vi ho chiesto? Eh, speriamo, dai. Oggi un altro mito. Riconoscete la pagina del vostro libro? È la pagina 78. La pagina 78, il titolo di questo mito è Papa e Rangi. Vedete come leggo Papa perché senza accento, e Rangi. E ho scritto qua, vicino, che è un mito maori di un popolo, il popolo dei maori, ed è un popolo della Nuova Zelanda, che è un'isola che si trova in Oceania. Anche qua vi sarà di aiuto l'Atlante o il Planisfero. Allora, su questa pagina del libro, voi sapete, riconoscete il vostro libro, non c'è la lettura, ma è un mito da ascoltare. Ora io farò questa lettura e voi seguirete i disegni del libro o sul computer, come preferite. Allora, il titolo, appunto, è Papa e Rangi. Ora leggo. Il cielo e la terra non sono stati sempre separati come oggi. Papa, Dea della Terra, e Rangi, Dio del Cielo, si amavano e si tenevano stretti in un abbraccio ininterrotto. Tra il cielo e la terra non c'era né luce né aria. Tanto Rangi stringeva Papa e tanto Papa abbracciava Rangi. Papa e Rangi misero al mondo tre figli. Tangaroa, Dio del Mare, Tane, Dio delle Foreste, e Tawiri, Dio dei Venti. Tutti e tre erano prigionieri della stretta dei loro genitori. Cento volte tentarono di fuggire, cento volte fallirono. A Tane, Dio della Foresta, che era il più forte dei tre figli, venne l'idea. Puntò i piedi contro Papa la terra e la testa contro Rangi il cielo e si mise a spingere. Spinse e spinse in quel modo i piedi contro Papa e la testa contro Rangi per anni e anni. Spinse a tal punto che riuscì a staccare dal loro abbraccio Papa e Rangi. Fu così che divennero il cielo, che noi conosciamo sopra le nostre teste, e la terra sotto i nostri piedi. La luce filtrava e la terra si coprì di piante e fiori e alberi. I tre figli liberati iniziarono la creazione del mondo. Tane creò il sole e la luna. Decorò il cielo, diede vita, vita alla prima donna, Ine, e la sposò. I loro figli furono i primi uomini. Papa e Rangi soffrivano per la loro separazione. Rangi pianse a lungo e le sue lacrime formarono fiumi e oceani. Le lacrime versate da Papa per la perdita del suo amato divennero invece la nebbia e la rugiada. Allora, questo è il mito. Voi lo potete riascoltare. La mia lettura la potete riascoltare una, due, tre volte finché lo avrete capito bene. Allora, e poi dovete passare nella pagina vicino, pagina 79, e rispondere sul libro alle domande di comprensione, che sono domande anche questa volta a risposta multipla. Quindi non dovete scrivere sul quaderno. Avete visto che in questo mito i protagonisti sono degli dèi. Questo popolo immagina come il dio del cielo e il dio della terra fossero uniti in un unico abbraccio e che vengono poi nel tempo separati dal loro figlio Tane, che è il dio della foresta. La terra si popola di piante e fiori, riceve la luce e riceve finalmente l'aria. Lo stesso dio Tane crea lo spazio, crea nel cielo il sole e la luna, crea la prima donna con la quale si sposa e da questa unione i loro figli e dai loro figli tutta l'umanità. Quindi anche questo è un mito di come è stato creato il mondo, secondo questa credenza di questo antico popolo della Nuova Zelanda, che è il popolo dei Maori. D'accordo? E quindi questo è il lavoro sul mito. Voi dovrete riascoltare la lettura per riuscire a rispondere alle domande a risposta multipla di pagina 79. Spero che vi sia piaciuto anche questo mito, come quello della giraffa di ieri. Proseguendo, non è finito però l'esercizio perché oggi sarebbe troppo poco, e quindi ho preparato quest'altro. Prendete poi il quaderno di italiano. Ok, scrivete la data come sempre e fate un po' di esercizio di grammatica sui comparativi. Ora ve lo spiego. Qui la data, il titolo in rosso lo copierete in rosso, il primo, la prima consegna è copia le frasi, sottolinea gli aggettivi al grado comparativo e scrivi se sono comparativi di maggioranza, minoranza o uguaglianza. Il primo è l'esempio. Allora, la minestra è meno gustosa della pizza. Allora, ecco qua, aggettivo gustosa al grado comparativo di minoranza. Così con le altre frasi. Copiate la frase, sottolineate l'aggettivo e scoprite se un aggettivo al grado comparativo di maggioranza ci sarà più, di minoranza ci sarà meno, di uguaglianza ci sarà come o quanto. D'accordo? E questo è il primo esercizio. Ce ne sono due. Allora, il secondo. Sul quaderno, di nuovo il titolo in rosso, sul quaderno rovescia le frasi e trasforma il comparativo di maggioranza in quello di minoranza. Allora, avete da scrivere un po' meno? So che ci tenete a scrivere un pochino meno e allora vi voglio accontentare. La frase che è quella, questa diciamo, il treno è più veloce dell'automobile, potete non scriverla e scrivere subito la frase capovolta. L'automobile è meno veloce del treno. Quindi, dell'esercizio nu secondo non dovrete scrivere le dieci frasi e le dieci frasi capovolte, dovrete scrivere solo le dieci frasi capovolte. Capito? Dunque, della prima frase dovrete scrivere solo l'automobile è meno veloce del treno. Della seconda, il leone è più feroce del lupo, non dovrete scrivere, dovrete scrivere il lupo è meno feroce del leone. Dovrete scrivere solo la seconda frase, quella con il comparativo di minoranza, ok? E allora, questi sono i due esercizi di grammatica da fare sul quaderno, va bene? Allora, ricapitoliamo da capo. Prima cosa, pagina 78. Ascoltate la lettura della maestra, ascoltatela due volte, d'accordo? Seguite le immagini e poi, a pagina 79, date le risposte di comprensione. Esercizio da fare sul libro. Finito questo, prendete il quaderno, scrivete la data e fate i due esercizi di grammatica. Ok? Va bene? Il primo, che è questo qua, è il secondo. Nel secondo non dovrete scrivere 20 frasi, ma solo 10, perché dovete scrivere solo le frasi che trasformate voi nel comparativo di minoranza. E quindi, ripasserete in questo modo la parte nuova, che è la parte sui comparativi, sugli aggettivi qualificativi, al grado comparativo di maggioranza, che si fa con più. Di minoranza, che si fa con meno. Di uguaglianza, che si può fare in due modi. Con come, oppure con quanto, oppure anche con tanto quanto. In tre modi, in realtà. Ora vi saluto, vi mando un bacio a tutti, buon lavoro, impegnatevi, ci vediamo domani. Ciao a tutti!